Buonasera a tutti, bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Telenove con il nostro TGN che apriamo con la pagina politica perché ci sono ancora polemiche all'interno del Partito Democratico legate alle primarie oppure alla decisione che dovrebbe arrivare su una rosa di sei nomi fatta calare, dice qualcuno, in particolare Pierfrancesco Maran, ma non solo dall'alto in maniera sbagliata secondo la posizione dell'assessore alla casa del Comune di Milano, insomma il PD spaccato anche al proprio interno fa il punto per noi. Alberto Carreras. Sulla carta tutti hanno la possibilità di vincere, il problema non è Pierfrancesco Maiorino, è la coalizione, a me piacerebbe una coalizione molto più ampia, mi auguro che questo incaponirsi su una coalizione piccolina non pregiudichi la possibilità di battere un Fontana che non è mai stato così debole, ha detto oggi il capogruppo della PD in regione Fabio Pizzul. Dopo molta attesa e indecisioni varie adesso il PD regionale ha tirato fuori dal cilindro una rosa di sei nomi di possibili candidati, l'eurodeputato Pierfrancesco Maiorino, la collega al Parlamento Europeo Irene Tinagli, l'assessore Pierfrancesco Marani, il capogruppo in regione Fabio Pizzul, la sindaca di Crema Stefania Bonaldi e il parlamentare Antonio Misiani. A questi potrebbero aggiungersi altri nomi ancora. Comunque le porte sono state lasciate aperte, non è stata votata la rosa dei candidati né il ricorso alle primarie. Insomma tutto è ancora possibile. Lapidario Pierfrancesco Marana ha dichiarato di non condividere che persone più o meno legittime chiusi in una stanza decidano per tutti. Gli accordi in una stanza sono la morte della politica. Maran continua a difendere le primarie. Un candidato che vince le primarie rappresenterebbe una candidatura forte. Il PD punta a un candidato unitario di coalizione. Per alcuni è necessario l'accordo con i 5 Stelle ma i problemi non mancano tra quanti invece preferirebbero il terzo polo di Calenda e Renzi. E nei 5 Stelle si sottolinea la necessità di giungere a un programma rigorosamente condiviso prima di decidere chi sarà il candidato. Molto attivo Pierfrancesco Maiorino, secondo molti in pole position. Maiorino, fautore dell'accordo con i 5 Stelle, ha già incontrato il capogruppo Nicola Di Marco oltre a esponenti di sinistra italiana e verdi. E in chiave coalizione di centrosinistra il coordinatore lombardo del Movimento 5 Stelle Dario Violi e il capogruppo al Pirellone Nicola Di Marco sono volati oggi a Roma per incontrare il presidente del Movimento Giuseppe Conte e discutere delle regionali lombarde. Pierfrancesco Maiorino è una persona con cui si può discutere e dialogare. Certamente non è un nome che sosteniamo in questo momento per la campagna elettorale ma è una delle frange del PD con cui si può ragionare. Queste invece sono le parole del consigliere regionale in Lombardia Massimo De Rosa sempre in quota Movimento 5 Stelle. La carta migliore per Più Europa resta quella di Carlo Cottarelli e comunque non siamo interessati a un fronte ampio che comprenda una forza populista e in ultima istanza dannosa quale il Movimento 5 Stelle. Questa invece è la nota congiunta di Valerio Federico e Giulio Del Balzo della segreteria nazionale di Più Europa. Più Europa aggiungono che non è parte del centro-sinistra Lombardo e quindi non è interessata a primarie di sorta ma pone e porrà la massima attenzione sui candidati che metterà in campo il PD e comunque valuteremo anche i propositi programmatici dei vari candidati. Intanto al Pirellone in aula lunedì dovrebbe approdare ed essere votata la riforma alla legge elettorale che prevede che sia il Presidente Attilio Fontana a indire le elezioni regionali. Un blitz, quello del centro-destra, almeno così lo definiscono le opposizioni, che non va proprio giù al PD in particolare e al suo capogruppo Fabio Pizzul che oggi ha parlato così. Siamo profondamente contrari alle modalità e alla tempistica con cui la maggioranza ha scelto di modificare la legge elettorale perché non si cambiano le regole del gioco mentre la partita è già cominciata. Siamo ormai in campagna elettorale e cambiare la regola secondo la quale chi convoca le elezioni è direttamente il Presidente della Regione quando ormai siamo già in campagna elettorale è profondamente irrispettoso dell'istituzione e anche dei cittadini perché il Presidente Fontana potrebbe decidere a questo punto quando gli è più conveniente andare alle elezioni magari per impedire ai suoi competitori di avere più tempo per fare campagna elettorale oppure per qualsiasi altro motivo. Fronte Terzo Polo invece ha parlato, lo ha fatto tramite i social Letizia Moratti sono profondamente amareggiata e preoccupata per le parole pronunciate ieri dal sottosegretario al Ministero della Salute Marcello Gemmato. La sua posizione non solo priva di riscontro ma ampiamente smentita dal mondo scientifico è inaccettabile così appunto su Instagram Letizia Moratti che è candidata come sapete per Italia Viva e Azione o meglio il Terzo Polo che si andrà a costituire a breve con le Assemblee in Lombardia come Presidente. La mia vicinanza va ai ricercatori, ai medici, agli infermieri e a tutto il personale, volontari compresi, ha aggiunto ed esprimo la mia solidarietà e il mio ringraziamento ai Lombardi colpiti per primi da questa terribile pandemia che con grande senso civico si sono affidati alla scienza e si ritrovano oggi mortificati dalle esternazioni avventate di chi rappresenta le istituzioni sanitarie. Invece questo è un altro post, questa volta su Facebook ringrazio Nando dalla Chiesa per le sue parole e l'approccio concreto di chi dice confrontiamoci sul programma. Abbiamo bisogno di una politica che non subisca ma sappia guidare le trasformazioni affrontando le grandi sfide che ci attendono. Questo è il commento di Letizia Moratti all'intervista a Nando dalla Chiesa sul Corriere della Sera di oggi. ha parlato di vaccini e ha risposto al sottosegretario alla salute Letizia Moratti il Covid, o meglio la situazione attuale del Covid nelle parole del virologo Fabrizio Pregliasco, eccolo. Temiamo nel prossimo futuro un'onda di risalita nel caso di Covid determinata dalle nuove varianti di questo virus BQ1, BQ1.1, XBB che hanno la capacità di schivare pregresse infezioni o la vaccinazione. Sarà determinante quindi attuare una serie di interventi di prevenzione in primis la vaccinazione, il richiamo vaccinale per tutte le persone fragili per le persone a rischio dopo 4-6 mesi dall'ultima dose. È importante però non abbassare la guardia e quindi considerare che questo virus purtroppo ci terrà compagnia ancora a lungo con andamenti ondulati. Fondamentale quindi per i cittadini ma per le istituzioni un atteggiamento prudente per far fronte a questa situazione e continuare in quella nuova normalità che ci siamo guadagnati. La cronaca adesso è stato condannato a 27 anni di reclusione per omicidio volontario, aggravato e tentato omicidio Jaime Moises Rodriguez Diaz, manager di 42 anni di origine messicana che secondo l'accusa il 19 giugno del 2021 ad Arese, in provincia di Milano uccise la moglie di 48 anni soffocandola e tentò di ammazzare uno dei figli, diciottenne. Lo ha deciso la Corte d'Assise di Milano che ha riconosciuto all'uomo le attenuanti generiche equivalenti alla gravante rimasta ossia quella di aver ucciso la convivente. Il PM Giovanni Tarzia aveva richiesto l'ergastolo e sei mesi di isolamento di urno. La Corte ha anche disposto cinque anni di libertà vigilata per l'imputato appena espiata e riconosciuto provvisionali di risarcimento per i tre figli tra 100.000 e 200.000 euro a testa. L'imputato non ha mai confessato nel corso delle indagini e del processo e la difesa nella scorsa udienza aveva anche provato a chiedere ai giudici di disporre una perizia medico-legale per valutare se la donna fosse morta a causa di patologie pregresse, richiesta, respinta. Tra 60 giorni le motivazioni di questa sentenza. Operazione antidroga oggi a Milano della Polizia con ben 15 arresti. 15 arresti e due obblighi di presentazione alla Polizia giudiziaria è il risultato di un'operazione della Polizia di Stato nei confronti di un gruppo criminale composto da cittadini albanesi e marocchini ritenuti responsabili di un giro di spaccio di stupefacenti che avrebbe coinvolto anche il cosiddetto boschetto della droga di Rogoredo a Milano. Le indagini sono iniziate a febbraio 2021 e hanno riguardato il fenomeno dello spaccio di droga destinato al consumo nelle varie zone boschive cittadine e nell'Interland milanese. Gli investigatori hanno accertato l'esistenza di una vera e propria associazione per delinquere dedita al traffico di ingenti quantitativi di eroina ma anche cocaina e ascice proveniente dall'estero per l'immissione nel mercato illecito. Un sodalizio organizzato tra un gruppo albanese e uno marocchino. L'associazione aveva come obiettivo il traffico all'ingrosso di stupefacenti da rivendere al dettaglio nelle varie piazze di spaccio milanesi. Nel corso dell'indagine effettuata dalla squadra mobile sono stati complessivamente sequestrati 25 chili di eroina, 33 di hashish, 134 gammi di cocaina e quasi 200 mila euro in contanti. Gli albanesi, secondo le accuse, si sarebbero occupati di approvvigionamento e logistica preparando le dosi in un appartamento in Viale Umbria a Milano mentre i cittadini magrebini acquistavano droga da questi in ingenti quantitativi per poi a loro volta tagliarla e metterla nelle piazze di spaccio boschive che gestivano tra le quali appunto il bosco di Rogoredo dove veniva venduta al dettaglio. Un uomo di 30 anni è stato denunciato dai carabinieri con l'accusa di aver dato fuoco a portoni di diverse chiese e di aver danneggiato auto nel comune di Muggio in provincia di Monzebrianza. Le indagini sono partite nel 2021 dopo l'incendio del portone d'ingresso principale della chiesa San Carlo proprio a Muggio. Grazie alle immagini di videosorveglianza registrate nella zona che possiamo anche vedere i carabinieri hanno ricostruito la dinamica del primo rogo. L'uomo vestito di nero e con un passamontagna sul volto si è avvicinato al portone ha posizionato un innesco e ha acceso il fuoco. In altre occasioni ha forato i pneumatici di alcune auto parcheggiate e dato fuoco ad altri luoghi religiosi. Ha identificato il presunto autore e i militari hanno perquisito la sua abitazione dove hanno trovato abbigliamento e oggetti usati per gli atti incendiari. Vista la sua passione per la natura e l'attivismo ambientale Luca Maregoni, morto nell'incidente avvenuto l'8 novembre in via Titolivio a Milano voleva iscriversi a Lega Ambiente. Lo racconta la stessa associazione spiegando di essere stata contattata dai genitori del 14enne che invitano coloro i quali volessero fare un atto simbolico per ricordare Luca a donare a Lega Ambiente Lombardia che userà i fondi per la messa a dimora di alberi. Gli estremi per la donazione sono quelli del conto di Lega Ambiente Lombardia Onlus presso Banca Etica specificando l'oggetto donazione per Luca Maregoni. L'associazione ambientalista si unisce al dolore per la perdita di Luca e ringrazia i familiari e tutti quanti vorranno contribuire attraverso la nascita di nuovi alberi al ricordo di un ragazzo che tanto amava la natura e la sua tutela. Giovedì i funerali e il lutto cittadino con il sindaco Beppe Sala che parteciperà alle esequie. 40 tra personaggi e associazioni riceveranno l'ambrogino d'oro il prossimo 7 dicembre a Milano il giorno del patrono. Sentiamo chi. Si avvicina il 7 dicembre giorno di Sant'Ambrogio e il Consiglio Comunale di Milano ha preparato un elenco di 40 nomi che verranno insigniti della storica e tradizionale onorificenza degli ambrogini. Dopo le polemiche come sempre a seguito delle candidature gradite ad alcuni e osteggiate da altri si è giunti al risultato finale. La grande medaglia d'oro alla memoria andrà a donna Luigi Giussani fondatore di Comunione Liberazione mentre le altre medaglie d'oro alla memoria saranno dedicate a Carmen De Min, storica mamma del Leoncavallo Manlio Armellini, patron del Salone del Mobile scomparso nel 2020 al presentatore Cesare Cadeo, per anni volto noto di Telenova a Valentino De Chiara, re del frisbee italiano scomparso per il Covid Gli ambrogini andranno poi a Marco Cappato, tesoriere dell'Associazione Luca Coscioni a Francesco Paolo Tronca, ex prefetto di Milano al musicista Mauro Pagani, alla giornalista e scrittrice Michela Proietti all'attore Diego Abbatantuono a Martino Midali, a Gianvincenzo Zuccotti e a Francesca Parviziar a Enzo Lizzi a ricevere gli attestati di civica benemerenza saranno tra gli altri la Fondazione Caripro, la Consulta Periferie di Milano l'Associazione Confesercenti di Milano l'Associazione Circolo Meazza ci sono come sempre i grandi esclusi di quest'anno l'artista Maurizio Catellan il settimanale TV Sorrisi e Canzoni il giornalista Paolo Del Debbio Memo Remigi, escluso dopo il recente allontanamento dalla Rai esclusi anche la curva sud rossonera e l'allenatore del Milan, Stefano Pioli tra i premiati c'è anche un altro nome forte, importante che è quello di Piero Tarticchio, esule istriano memoria da anni ormai, da tanti anni del dramma, della tragedia delle foibe anche a lui verrà consegnato l'Ambrogino d'oro dopo gli agenti di polizia e i numerosi sindaci dell'Interland milanese anche i tassisti si uniscono al coro contro Area B vediamo il servizio di Paolo Pirovano continua la polemica su Area B a Milano la maxi zona off limits alle auto ritenute più inquinanti attiva dal 3 ottobre scorso e bersaglio di numerose polemiche da intere categorie come le forze di polizia fino ad alcuni comuni del milanese tra cui Cerro, Rescaldina, Parabiago schierati contro quello che ritengono un provvedimento iniquo a contestare l'utilità di Area B sul fronte del traffico sono ora i tassisti se dicessimo che a qualche mese dall'attivazione di Area B il traffico è migliorato commenta Emilio Boccalini vicepresidente di Taxi Blu credo diremmo una grossa bugia e anzi a suo modo è peggiorato in molte zone come certo non sono migliorati i tempi di percorrenza non parlo dei livelli di inquinanti anche perché credo sia presto per valutarne l'impatto e certo non ci compete ad oggi però se pensiamo ad Area B parliamo di una misura che al momento sembra solo aver creato più disagio che altro almeno a molti cittadini il tema è importante anche quando si parla delle tempistiche di percorrenza e del numero di licenze di taxi il metodo migliore per dare servizio in questo momento non è emettere licenze perché se io ci metto 20 minuti da Piazza Cavura arrivare in Piazza Repubblica se metto altre licenze ce ne metterò 25 di minuti perché avrò altre macchine sulla strada allora bisogna capire cosa è successo a Milano negli ultimi mesi bisogna capire come mai dopo l'istituzione dell'area B AMAT che è un ente del comune di Milano ha detto che è aumentato il traffico del 15% a fronte di un restringimento delle strade bisogna capire questo se non riusciamo a capire questo possiamo mettere anche infinite licenze ma la mobilità resterà pari a zero erano circa un centinaio i lavoratori di musei e biblioteche riuniti in presidio oggi davanti a Palazzo Marino per protestare contro la mancata pubblicazione del bando di gara dell'appalto, accoglienza, musei e biblioteche del comune lo stato di agitazione è promosso da Filcams CGL Milano ed erano presenti in Piazza anche i consiglieri di maggioranza il DEM Daniele Nahum e Alessandro Giungi e il capogruppo dei Verdi Carlo Monguzzi durante il presidio ai rappresentanti sindacali è arrivato l'invito per un colloquio con la direzione lavoro del comune ma sentiamo quali sono le rivendicazioni e anche la voce di Daniele Nahum che le appoggia questi lavoratori attualmente e ormai da 4 anni e mezzo sono pagati 4 euro all'ora perché gli viene applicata loro una retribuzione che non corrisponde al settore in cui loro lavorano noi già mesi fa avevamo rivendicato per il prossimo bando di gara una retribuzione adeguata ovvero quello del contratto del settore culturale avevamo raggiunto in un'intesa mesi fa col comune in tal senso quindi che prevedeva questi impegni nel prossimo bando che però ad oggi non è ancora uscito e concretamente questo significa che avverrà una proroga ancora altri mesi a questo stipendio vi diamo il nostro impegno di contattare subito l'assessore della cultura per smuovere questa questione sappiamo che la retribuzione è bassissima e vergognosa anche per una città come quella di Milano perché 750 euro al mese è una cosa inaccettabile cambiamo decisamente argomento presso il santuario di Rho a predicare gli esercizi spirituali di avvento per giovani è l'arcivescovo l'evento articolato in tre serate centrate sulla preghiera è dedicato in specifico quest'anno alle figure di Agar, Anna e Maria Anna Maria Braccini l'ingresso in preghiera nel santuario della Madonna addolorata di Rho il rito della luce e poi la parola di Dio con il libro della Genesi e la vicenda di Agar la donna a cui è dedicata la prima serata degli esercizi spirituali per i giovani che vede come predicatore di eccezione l'arcivescovo di Milano esercizi di avvento sempre molto fortunati e quest'anno articolati secondo le sette zone pastorali e così il vescovo Mario è proprio in zona pastorale quarta si parla, come detto, di Agar ossia quando la preghiera ti apre gli occhi poi sempre tra canti e preghiera l'adorazione eucaristica e infine quello che l'arcivescovo chiama un piccolo adempimento con la richiesta rivolta direttamente ai tanti ragazzi presenti vorrei dire in questo avvento fate il vostro crocifisso trovate un'immagine che vi sembra particolarmente congeniale mettetela lì in qualche posto ordinario sulla scrivania, non so, sul telefonino cioè qualche posto dove potete guardarla spesso per ricordarvi che Gesù anche lui è stato in un deserto è alzato grida perché la morte lui, Gesù l'ha sofferta e l'ha vinta quindi tutti i drammi della storia li ha attraversati e proprio attraverso la sua morte ha strappato il tempio permesso di vedere Dio vi ricordo che dopo questo telegiornale Il Meteo verrà trasmessa la striscia quotidiana alla chiesa nella città oggi a cura di Anna Maria Braccini questa sera un approfondimento sulla riflessione proposta da Monsignor Delpini durante gli esercizi spirituali di avvento intanto in tutte le chiese locali d'Italia si celebrerà il 18 novembre la seconda giornata nazionale di preghiera per le vittime e i sopravvissuti agli abusi per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili l'appuntamento istituito in corrispondenza della giornata europea per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale coinvolge tutta la comunità cristiana nella preghiera seguendo l'indicazione della CEI quindi venerdì prossimo i vescovi delle dieci diocesi di Lombardia si riuniranno nella cappella arcivescovile della Curia per un momento di preghiera per le vittime di abusi a conclusione di uno degli incontri periodici della conferenza episcopale lombarda la CEL sulla torre PVC firmata da Libeskind a City Life nei prossimi fine settimana si potrà ammirare un capolavoro del Botticelli nei weekend del 26-27 novembre e del 3-4 dicembre la torre aprirà i cittadini che all'ultimo piano a 130 metri d'altezza potranno ammirare non solo la vista sulla città ma anche e soprattutto il ritratto di Giuliano De Medici solitamente conservato all'Accademia Carrara di Bergamo il 26-27 novembre e il 4 dicembre si potrà vedere l'opera dalle 9.30 alle 19.30 mentre il 3 dicembre sarà possibile farlo anche in notturna dalle 21 a mezzanotte la visita a Sguardi dalla Torre Botticelli così si chiama l'evento sarà possibile con prenotazione obbligatoria su Ticket One che è lo sponsor tecnico del progetto o sul sito di PVC l'ingresso sarà consentito a gruppi di 35 persone ogni 15 minuti era l'ultima notizia del nostro telegiornale che si chiude qui quello che c'è dopo ve l'ho anticipato aggiungo che dopo la striscia la chiesa nella città oggi ci sarà ovviamente il calcio con Massimo Scarinzi e le notizie sportive e poi l'approfondimento delle stesse a Nova Stadio Sprint mentre la prima serata è dedicata alla politica con Adriana Santacroce e linea d'ombra per te buona serata restate con noi e quindi che c'è